Sindaco Alessandrini, bilancio e aumento delle tasse, se ne parla tanto in queste ultime ore, quali sono le novità? Diciamo che questa non è una giornata semplice sicuramente, ma il problema è avere a che fare con una realità finanziaria che ha costretto il sottoscritto a scelte necessitate. È chiaro che questo significa chiedere un sacrificio ai pescaresi, però è un sacrificio che viene chiesto in nome e per conto di una città migliore e diversa. A proposito di tasse, si parla di aliquote massime che potrebbero essere applicate. Questo corrisponde al vero? Sì, questo corrisponde al vero, nel senso che verranno licenziate e poi sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale le nuove aliquote per quanto attiene alla cosiddetta IUC, l'imposta unica comunale, che racchiude a sé le tre forme di imposizione tributaria, che come è noto sono i mutari e tasi. E poi c'è anche la questione dell'addizionale IRPEF comunale, su cui abbiamo dovuto effettuare un piccolo rincaro. Aumenti di tasse dovuti anche, dicevate anche nei giorni scorsi, al governo, al malgoverno della passata amministrazione. Solo questo è il motivo? Si è avuto un parere negativo del Collegio dei Revisori di Conti, in quanto vi era un disavanzo di 4 milioni e 6. A questo si aggiungono altre cifre che danno il quadro in cui ci siamo trovati a operare, quello per esempio dell'utilizzo di fondi vincolati per spese non previste, circa 16 milioni. C'è il tema, grandissimo, che per quanto attiene ai comuni, dei cosiddetti residui attivi, ossia crediti indicati in bilancio che però non rispondono a somme effettivamente esigibili, su cui pure abbiamo cominciato a svolgere, lavorando assiduamente nel mese d'agosto, una necessaria operazione di chiarimento. Questo, ripeto, nella direzione preliminare sostanzialmente della messa in sicurezza dei conti pubblici.